bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di triangle strategy allora mi sa che abbiamo sbloccato due personaggi andiamo a vedere ah what is the realm coming to hail fair maid well if it is an error have a seat you've ample choice who are you and what have you done with a barkeep the one I know ain't prone to melancholy she is one word of a fellow bar keeps misfortunes reaches her it's all in this letter people are taken to plunder and to survive this war and my friend's tavern was destroyed beyond repair here's hoping your fine establishment escapes unscathed I I can't bear to think of what I'd do without this place my heart goes out to you as if times weren't hard enough with customers I can't think straight for worrying so much we're a soldier aren't you can't you just go out there and crush your enemies so we can be done with all this if only it were so easy well I wouldn't give to will the flag and every day instead of a blade never took you for the type to make excuses erador erador is doing everything he can the realm suffers because of my feelings forgive me lord wolf fort it was hardly my intention to blame you I don't know if they are I haven't been myself these days but enough of this all the moping in the world won't change a thing it's time for action when they arrive no as you can see I'll have no choice but to shutter my tavern if the war doesn't end and soon so let me join you I think you'll find that pouring ale isn't the only trick I have up my sleeve ah but where are my manners possible bar is the name my lord at your service a barkeep I may be but good drink isn't the only way I know how to heal what I can vouch for that my lord as a bar is good to have around in a pinch così si unisce perché la guerra gli fa fallire la taverna mi sembra una scusa un po querile potevano inventare una storia migliore sinceramente poi uno che fa ubriacare la gente cura la gente è ridicolo ok però cura in sella suo cavallo ah buono un attacco in sequenza mi sa che è meglio di quella che è ciò che cura mo qua cura solo uno oddio che mo ha sbloccato il fatto che posso velocizzare i movimenti di uno vediamo quell'altro chi è? chi è questo? poverino non l'ha fatto finire ma così urla si affaccia e che non lo conosce manco quello? ahahahah lo sapevo ma che non ce lo fila nessuno sto poverio come non lo conosce? si ho capito ah vediamo oiii quindi fa la magia del vento ma adesso ci credi? eh ma adesso ci credi? l'archmage grandante mi insegna tutto mi insegna mi insegna mi insegna mi insegna l'armi sono sicura che la mia sorceria potrebbe aiutarti a nulla questa invece è la storia più sensata eppure divertente quella di prima non ha senso unico vediamo che fa di attacchi vediamo che fa di attacchi oltre a quello ah le magie di ogni elemento conosce magie di tutti gli elementi buono può alterare le direzioni dei nemici praticamente può spostare un tizio e mettermelo di schiena così faccio più danno buonissimo ok siamo tutti a livello 5 94 93 vediamo l'altro mago quanto c'è di vita 85 e quindi è una mezza pippa questo ah non si così così glielo tolgo a lei panello del vigore ce lo tolgo guarda rimuovi 96 ce lo tolgo con l'altro è bassissimo di vita con l'altro eh almeno adesso sta con 10 punti in più ok ok sono equilibrati quando c'ho 1900 ah ok quindi potremmo volendo potrei aumentare qualcuno la magia però non so in questo questo attacco che gli devo fare ma questo chi sarebbe? ma questi puntini? non è muovere non è non è non è ma Ok, mi sa che non ci sono oltre elementi esterni. Allora direi di andare all'accampamento e vedere se posso portare qualcosa più avanti. 500. Volendo potrei farne 3. Ok. 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 lo vado a togliere ok passaggio a due non va bene legno fa lui e vabbè io mi sa che faccio questo qua mi servo e poi bene ok peccato mi manca pochino e potevo farne un altro se ci hanno messo qualche missione voglio vedere come sono gli altri personaggi ok contro diretto avvicinati a distanza ok questo è a livello 6 ma proviamo questo si provo gli altri personaggi per vedere come come lavorano allora togliamo la maga e mettiamo quest'altra di maga che cura poi li possiamo togliere fammi vedere questi qua come sono allora c'è l'arcira per dettagliando si vede ok questo è di fuoco quindi dobbiamo tenere quello di ghiaccio abbiamo due lancieri e poi tutti orcieri abbiamo ma quindi direi 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 magia google ma ma Grazie. Ok, abbiamo tutti insieme. Lo scegliamo. Occultamento, ok. Per due turni. Quindi non la vede nessuno? Vabbè, io comunque la giro di qua, non la voglio tenere di schiena. Ah, ok. Eh, non è male. Decisamente meglio questa della maga. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. pure questo mazza è bella la zona enorme vediamo l'aria curativa invece non fa la croce così me lo becco di schiena bravo pure lui fa attacco così ok allora esistente potevo fare attacco singolo come on sì molto effettivo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Fa tutto Anna Fa tutto lì Grazie a tutti Voglio provare sto muro di ghiaccio Ah ok quindi ci ripara Buono Ok facciamo arte curativa Così Ok non sale di molto ma Ma io li niente Grazie a tutti Grazie a tutti Ma quindi non guarisco io Posso guarire gli altri ma io non guarisco Questa stronzata Posso guarire gli altri? Ma io no No è sempre lì ammazza tutti ah il denaro non c'è dato niente quindi non possiamo aumentare nessuno vabbè la maga non è tanto maga aiutarci a curare è una che ha cura due persone ma non me non ha molto senso a questo punto è meglio il maghetto del vento che cura pure lui anche se poco ma penso che se lo porti avanti sì è meglio generarli non sappiamo mai cosa andiamo incontro no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok siamo riusciti a imbugarci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dobbiamo prendere qualche oggetto che sta in giro Un gattino Oh soldi Dai così riesco a farmi un altro oggetto Vedo un cavolo Questo morto non ce ne frega niente Altro neanche Ok Ok comunque conviene vedere queste mappe Perché ti fanno vedere poi Praticamente la mappa che sarà la mappa che sarà la mappa andremo a combattere quindi Magari così Magari così Occhio sembra che una strada la puoi fare invece no Ma gli è morto davanti Perché fratello Quindi ci fanno il veneno Quindi ci fanno pure veneno E in pratica ci stiamo preparando 600 Perfetto E in pratica ci fanno 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 Non lo so Se fare la parte dell'amico Vabbene che facciamo la parte dell'amico Non lo so Allora di qua non si passa Quindi sicuramente il gruppo ce lo dividono Sicuro come la morte E ce lo dividono il gruppo Le mappe non si vede niente Oh che giro della tabà Questo sta per morire Ok Sì questo moscata Ok Ok Quindi qua sono chiusi Per entrare devi abbattere questo E ora mi devo parlare con tutti Tanto giro me lo so fatto E ora mi devo parlare con tutti GIONE Mmm prestamo GIONE Grazie a tutti. Allora, secondo me quello giusto da rispondere per lui è questo. Allora, io direi di andare al menu e andare all'accampamento perché abbiamo i soldi per fare altre due. Mi sa. Dov'è questo qua? Aspetta. Ehm... No. Non abbiamo... Che fa? Ha gli oggetti... Gli oggetti... Giara dell'olio... No, l'ho comprato io, ecco. Questi sono la magia del fuoco. Quindi abbiamo la giara che prende fuoco, più questo. Quindi abbiamo fatto un ottimo acquisto all'epoca. E ovviamente ci dobbiamo portare quella di fuoco. Ok, abbiamo mille e due. E qualcosa ce la facciamo. Ok, ok. Ehm... Mh, 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 mh... Chiedi di andare con lui. E basta. Non ci abbiamo più niente. Quindi così non possiamo farlo. Che abbiamo? Ok, allora ce ne possiamo andare... Ah no, aspetta, archivio. Ok, abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo. Ah, carina sta cosa. Ah, quindi sono gli scenari. Potevamo andare da una parte e dall'altra, visto che siamo andati di qua, abbiamo preso sta scelta. Interessante. Ah, ok. Una freccia lasciata in diagonale colpisce più spesso il bersaglio. Diagonale. Vado a ricordare. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'acqua e il fuoco, quindi possiamo... Cioè il ghiaccio e il fuoco. Il fuoco scioglie, il ghiaccio diventa acqua. Se avessimo un elettrico, faremmo fritti. Ok, li abbiamo visti tutti. Basta, andiamocelo. Grazie a tutti. Ok, niente, quindi guerra e basta. Vediamo chi ci dà come personaggi consigliati. Questa è un po' di più. Come from a bunch of traitor bastards Lenbroke broke the treaty first We've every right to seek retribution What? We didn't know such thing That's right I've heard enough of your lies Brace yourselves for battle Let's go My father is in danger Destroy the bull Why? Judging by them I'm trusting you to Your orders Shatters conceal me Don't let them get inside the castle For victory Leave everything to me For the honor of house Mulfort There is no mercy on the battlefield Let us steal our defenses Let us steal our defenses Splendid Cool heads shall prevail Make the most Much appreciated Ouch Come at me Let me show you what I've learned Let me show you what I've learned Two ashes Two ashes Two ashes Two ashes So it falls to me And that's what I've learned I'll do And we did all the things that we need To be able to extend Let me show you what I've learned Second What's the fact that we have A trail of 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 Sì, sì. Al prossimo episodio Grazie a tutti. Come fa il cavallo a salire lassopra? Non si sa. Mi stiro. Come fa il cavallo a salire lassopra? Come fa il cavallo a salire lassopra? Come fa il cavallo a salire? 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 un messo un messo non posso fare provocazione un messo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok, ce lo siamo giocato pure questo Ma non posso picchiarlo Ora mi piete fa No? 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 Ho capito, sì. Vabbè, quello è un arciere, quindi non mi conviene. Conviene che mi metto qua. Voglio vedere quelli come passano. Ah, passano di là. Eh, ma ci voleva quello di ghiaccio. Non capisce niente con sta mappa. Allora, fammi mettere di qua, così non mi beccano. Allora, fammi mettere di qua. A presto. La nostra vittoria è assurata. Siamo iniziando? Siamo iniziando. I owe you. It's one step closer to our hope. Let me show you what I've learned. Let me show you what I've learned. Let me show you what I've learned. Come at me! From where shall we strike? Now I end this. I've gained new strength. Oh! Contra-attacco! Bravo! You won't catch me now. I won't lose! I won't lose! You trespass upon my home! Impressed? I see a path to victory. I see a path to victory. Ouch! You've left yourself open! Ha-ha! Shall we begin? Good-to-tie. You're right! You're right! You're wrong! You're wrong! You're wrong! You're right! You're right! You're wrong. I'm going to keep things going! Grazie. Permettere. Segui la mia linea, proprio come ho avuto. Quindi dove dovremmo incontrare? Il senso è qui! Segui la linea. Dovemmo mettere l'altra parte. Ok. Dovemmo mettere l'altra parte. Ok. Dovemmo mettere l'altra parte. Dunque l'occultamento passa via. Fanno attacchi. Cos'è un opportunismo? Fa un altro attacco? Dovemmo mettere l'altra parte. Dovemmo mettere l'altra parte. Ok. Dovemmo mettere l'altra parte. 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 Casella. Dovemmo mettere l'altra parte. Ah, ce ne arrivano altri? Ah, c'è un po' che c'è? E' un'attia, c'è... ma che cazzo mi brucia ho stato di fuoco io cazzo sono arrivati da dietro i've been waiting for this push on through ok 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 ma non so se mi conviene attaccarli secondo me gli conviene colpire continuare ok 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 ecco adesso ci stanno quasi circondando i see the path let us steal our defenses my knowledge grows deeper for the honor of house Mulford just die already cool heads shall prevail allow me we will make our ideals reality I'll take you on I'll take you on I'll take you on look at me learn I'll take you on brace yourself I see a path to victory forward parry that hit the mark what have we here I'll take you on 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 no ma l'avevo dimenticato quello che curava le palle let us try out a let us feel our defenses i won't lose questo è tutto, sì, troppo lento la perdita non è una opzione la morte da above ora, sì, è per mio figlio e figlio for myself no, 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 no no, no no, 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 no a a a a a a a a brief we'll get them yet i won't lose my lamp strikes true did you see that? hello me i ain't that slow for the honor of house woolford that hit the mark i fight for peace i 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 they make matematize maxwell leave me take rolling to safety yes il mio prezzo il mio prezzo con me non posso lasciare loro il mio prezzo ma la sua grazia Roland, il mio prezzo non mi ha salvato il futuro di... il mio prezzo seguiamo ma io dopo loro tu potete vedere la Norzelia batata in blood, Gustanoff? davvero, Johan questa terra è stata perdita Regna, ma non è necessario non è più questo è lì il mio prezzo questo è lì il mio prezzo è preparato il bambino per l'escazione quando parliamo una decisione non è sicuro che il rio è la nostra speranza le strade sono riuscate con i soldi di S. Frosti il nostro sogno quindi aspettiamo qui padre freddy cordelia e cosa sta facendo con noi? è con gli soldi cosa? non non ho capito 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 ma ho capito non ho capito la mia moglie dice la verità, noi siamo troppati e tornati a questo turno di eventi come voi enough Huett, non possiamo essere riusciti a tutti i nostri amici con la S-Frosti armi che vengono a uscire come ucchi i miei emozioni mi sono più migliori per un momento, scusate Huett means no ill, mi lady, her fellow members of the Kingsguard were slain before her eyes for now, let us focus on the present, Prince Roland's safety and escape are our main concerns of course these are trying times, but we mustn't let emotions cloud Benedict, you stopped me from speaking the truth, to what end? Gustadov would frame Glenbrook for Lord Gergan's murder and claim it as pretext for his invasion If he knew we witnessed the truth, our heads would already be on pikes It would seem he still intends to put them there Because you spat in the face of his demands What we know could expose his claims as the treacherous lies they are If it came to light that Gustadov orchestrated his own cousin's murder No one would dare stand by his side Indeed, however words have little substance on them Especially when weighed against the power and influence the Archduke commands Your truth would be taken... Once again, your wisdom makes me feel... No, we are all fumbling You spoke and acted as the Lord of House Wulford And did so admirably And yet my actions have put everyone in danger Father would have known better Let us look forward, my lord, not back There are truths yet cloaked in the shadows We must survive and see them brought to light Thank you, Benedict I promise to do all in my power to see us through this I know you will, my lord Let us await Sir Maxwell I know you will, my lord, not back I know you will, my lord, not back Thank you, Benedict Yes, alleine populations Of the cold, my reenact scratch What prevent us from mother-in-law I know you will, my lord Some of you already have introduced Mi sa che ho dato la risposta un po' cazzo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Allora. Arag CPI- può confermiare a pozcawazione che i originii ancora più fissi da Waw's Inn che erano al principio se fosse così Lionel offrirà i servizi in questa capacità ah capisce la tua posizione precaria tra tra due raveni in questi tempi uno non può mai avere abbastanza di corno e di resursi per farlo sicuramente i 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